Giulio Caresio, giornalista e curatore editoriale, siamo qui oggi all'interno del percorso di SalesCult per parlare di scrittura, scrittura 3.0, quindi scrittura sul web e non, quindi mezzi, strumenti, linguaggi e di social media come strumento per creare la relazione con il cliente. Quindi noi lavoriamo sui testi, perché i testi oggi sono sempre più importanti, si scrive non solo per un lettore o per un cliente, ma si scrive anche per un motore di ricerca, che è l'intermediatore che mi fa trovare ciò che voglio in rete, quindi mi fa raggiungere il mio cliente nel caso di una azienda. Mi occupo di progetti editoriali per le aziende, oggi presentiamo anche il percorso che porta un'azienda a rivedere la sua comunicazione in un progetto editoriale, quindi più pianificato, più coordinato tra diversi strumenti per ottenere il massimo.